Meghan Markle lotterà molto duramente per contrastare il risultato di Ofcom che si è pronunciato a favore di Pierce Morgan, afferma l'esperta reale Angela Levin. Un esperto reale ha affermato che Meghan Markle proverà in ogni modo per confutare l'ultima sentenza di Ofcom, che ha scagionato i TV sui commenti fatti da Pierce Morgan sulla Duchessa. Meghan Markle ha presentato una denuncia personale al regolatore della trasmissione dopo che l'ospite di Good Morning Britain ha dichiarato di non crederle durante la sua intervista con Oprah Winfrey a marzo. La biografa reale Angela Levin ha affermato che il desiderio di vincere della Duchessa è spaventoso e ha affermato che lotterà molto duramente per annullare la decisione. Parlando con l'ospite di GB News Nigel Farage, l'esperta reale Angela Levin ha dichiarato Sarà un passo indietro. Ma sono abbastanza sicuro che proverà in tutti i modi per tornare indietro e lamentarsi e non prenderlo. Punto punto. Abbiamo sentito l'altro giorno che c'era una voce che stava violando la sua libertà di parola e tutto il resto. Quindi penso che combatterà molto duramente. Abbiamo visto la battaglia che ha avuto per suo padre. Non gli parlerà in nessun caso. Anche quando ha cercato di scusarsi pubblicamente e privatamente. Ha bisogno di vincere. Ha davvero bisogno di vincere ed è questo che fa abbastanza paura. Ofcom ha avviato un'indagine sui commenti fatti da Pierce Morgan L8 il 9 marzo, le mattine prima e dopo la trasmissione dell'intervista di Oprah Winfrey con il principe Harry e Meghan. Durante l'intervista di due ore della coppia con l'ospite del chat show americano, Meghan ha parlato apertamente della sua salute mentale, rivelando che non voleva più essere viva mentre era incinta del primo figlio della coppia. Ha anche affermato di non aver ricevuto alcun supporto per la salute mentale da Buckingham Palace e ha affermato che un membro anziano della famiglia reale aveva fatto un'osservazione razzista sul colore della pelle del figlio non ancora nato.